Ben ritrovati in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo. La regola della sostenibilità si propone di approfondire il rapporto tra cristianità e sostenibilità e quindi della relazione tra uomo e ambiente cercando di rispondere ad una domanda cruciale quanto stiamo tutelando la nostra casa comune? Appuntamento ogni lunedì alle 10.30 in diretta con Fra Italo Sant'Agostino e Toni Augello.